Buongiorno ragazzi! Allora, come nell'altro video vi ho fatto vedere unboxing di questo bellissimo Commodore WIG20 NTSC PetStyle che continuo a dire che è fantastico. Chi non ha visto il video che ho fatto prima, il computer non funziona, non funziona, non funziona. Allora ho il cavo di alimentazione, lo mettiamo qua, cerchiamo di accendere, niente, niente, assolutamente niente, non succede, nulla. Il led non si accende, anche se non è detto che il led non si accende e il computer non funziona, però io ieri l'ho controllato sulla tv purtroppo nessun segno di vita. Ho provato sia con modulatore che con cavo audio video. Va bene, allora, prima cosa da fare in queste situazioni, don't panic! Prendiamo il nostro tester e prima cosa da fare è impostare il tester a controllare il nostro alimentatore perché bisogna cominciare dal punto di partenza, da dove arriva la nostra corrente. Allora, impostiamo il voltaggio. Ovviamente questo alimentatore è alimentazione alternata, non cambiamo sull'alimentazione continua, ma alternata. E qua, aspettate, sposto un attimo, così vedete bene il nostro tester. E qua, con alternata, chi non sa, alternata non ha polo negativo polo positivo. Nel senso, se lo mettiamo così o così, non cambia assolutamente nulla. Per cui lo mettiamo dentro e vediamo, dovrebbe essere 11 volt alternati, più o meno. E come vedete, non so se si vede bene, abbiamo il nostro 11 volt alternati. Questo ci dice che il nostro alimentatore funziona bene e non bene, perché, sinceramente, speravo che l'alimentatore non funzionasse, così cambia. L'alimentatore è fatto. E invece, e invece. Va bene, apriamo il nostro computer. Ok, lo apriamo. State attenti, perché qua, queste cerniere qua, si rompono molto facilmente. Ma, come ho visto, il pet style ha abbastanza spazio qua, che non non influisce, si può tranquillamente aprire senza problemi. Ok, abbiamo la nostra scheda madre. Cosa si guarda dopo? Ovviamente. Allora, abbiamo qua il nostro fusibile. Allora, prendiamo il nostro carissimo misuratore, il tester. Lo spostiamo qua. Per vedere la continuità, mettiamo anche musichetta e controlliamo il nostro fusibile. E il nostro fusibile funziona. Anche questo non sarebbe male se il fusibile si bruciasse, però forse è meglio di no, perché se si brucia il fusibile potrebbe essere dopo qualche altro problema. bene, 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 bene. Allora, controlliamo se per caso non si tratta semplicemente che il led non funziona, anche se l'ho detto che non è, non è proprio così, perché non dà segno di vita anche sotto sulla tv. Accendiamo. Il led non si è acceso. Cambiamo. In questo momento mettiamo voltaggio continuo, perché il led è già dopo tutta questa parte di alimentazione sulla scheda madre, per cui qua abbiamo voltaggio continuo. Lo controlliamo e qua già abbiamo polarità. Mettiamo positivo, negativo, zero, zero, zero. Va bene, dai. questo non funziona. Vuol dire che la parte di alimentazione interna potrebbe avere dei problemi. Ma cosa possiamo controllare ancora? Non dovrebbe essere problema, però controlliamo anche il qua, il switch. Sembra non è brutto, anzi funziona al tatto, funziona perfettamente, però proviamo. A sto punto scolleghiamo alimentazione, mettiamo il nostro carissimo beeper, mettiamo in off, abbiamo due collegamenti qua, sulla scheda madre, attacchiamo tutti i due, non beeper, accendiamo e non abbiamo niente. Questo funziona, questo non funziona, sembra che non funziona il switch. No, non potrebbe essere così facile, non può essere così facile. Allora, bene, a sto punto, visto che il switch di sicuro non funziona, lo proviamo a bypassare, così mi serve solo una di queste punte del nostro tester, mettiamo questo qua, qua, di fianco, così vediamo subito se si accende i led, mettiamo ovviamente alimentazione e via. Voilà! Va che bello vedere i led che si accende, ragazzi, bellissimo, questo vuol dire che il computer dovrebbe funzionare, dovrebbe funzionare, ragazzi, sono molto, 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 molto entusiasta. A sto punto, adesso lo prendo, lo attacco alla tv e vediamo cosa ci dà allo schermo. Andiamo! bene ragazzi, scusatemi la luce che sta dietro di me, ma purtroppo la tv ho posizionata così, che fare? Allora, la, il momento, il momento, il momento della verità, accendiamo computer. Funziona! Allora, come avete visto, il nostro amico funziona. Adesso sono molto, molto, molto contento, un altro pezzo di storia, possiamo dire, ripristinato, anche se secondo me ancora ha qualche problemino con VIC-1, cioè il chip grafico, ma in questo momento non ho nulla per poter scambiarlo con qualcos'altro, per cui comunque sono soddisfatto a quel punto di questa cosa che sono riuscito a fare perché alla fine funziona, non ha grossi problemi, la parte logica funziona, adesso lo apro, ripulisco la tastiera in modo tale che i contatti funzionano bene, ma sono molto, 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 molto contento, tanto il computer così molto raramente viene utilizzato per cui io lo posso sistemare oggi, ripulisco la tastiera e dopo un anno, due, tre anni diventa lo stesso questa cosa perché ricordiamoci che quando noi compravamo questi computer 30 anni fa lo utilizzavamo tutti i giorni, tutti i santi giorni scrivere dei listati basic e allora è normale che i computer non si deteriorava e invece purtroppo il computer si deteriora molto di più rispetto molto di più quando non lo utilizziamo piuttosto che quando lo utilizziamo va bene in questo momento è tutto vi ringrazio tantissimo per aver speso tutto quel tempo con me un'altra volta vi scuso per quantità qualità dell'immagine che avevo ma oltre che avevo la luce dietro le spalle dal tv plasma purtroppo la frequenza non combacia con la frequenza della videocamera purtroppo questa specie di allone giallastro che passava non era assolutamente problema grafico ma problema proprio di interfaccia tra tecnologia odierna tecnologia di ieri perché alla fine anche plasma ormai ciao buono ciaoone peace and love ciao